E' la prima volta, devo dire, che non sapevo trattenere le emozioni. E perché dico questo? Questa è banale, no? Dico questo perché è un momento del genere, bisogna dedicarsi a un bello. E questa serata per me è quanto di più bello, se più in mente posso esistere, dopo otto anni, se più di ancora, di parola e guanti, però stiamo qua, perché c'è troppo di bello in aspettato, romantico, appassionante, perfetto, profondo, folle, stupendo, profondo, religiosamente vero. E' stato una settimana molto difficile per giocare a questo mestiere, e ci hanno chiesto spesso di non farla conoscerti, e non sapevo più cosa rispondere, però mi dà anche la vera risposta è questa. Grazie. E' un po' di chi ha potuto ottimare a lavorare, perché non è una donna nuova, è un po' di chi ha potuto ottenerti, grazie. E' un po' di chi ha potuto ottenere. E' un po' di chi ha potuto ottenere. Grazie.